musica 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 ti ha bloccato anche te? no adesso posso muovermi ehm taliasing 8x no musica 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 iiance C'è un'impressione che il B-Sync non funziona tanto bene Dove sei? Sei già lì Ah ti abbassi con R3? Stai parlando con uno che non sta usando il controllo Ah già è vero E vediamo quali dei pincelnecchi di pincel è in realtà capabile di farci qualcosa Ah, io ho sparato. Può farlo, è un sergente, tu no. Che me f... Perchè sono spettatore? One shot, one opportunity. Reload. Reload. Non si può saltare in questo gioco. Non si può saltare in questo gioco. Non si può saltare in questo gioco. L'ho fatto prima. Non si può saltare in questo gioco. Non si può saltare. Non si può saltare in questo gioco. E' tutto. Quale sei? Sono primo verso l'uscita sull'altro lato. Ok, io sono di fianco al tizio che ci insulta. Sei quello con la maschera La maschera? Si, non ti si vede la faccia Son figo La sentiamo musica Si, è bellissima Si, il cielo non ha molto senso Però vabbè Che ha le stelle con Il sole dall'altra parte E dall'altra parte altro sole Ah come cazzo Sì, mi è sparito L'audio del gioco Non ti serve Dov'è l'audio del gioco Adesso che c'è la musica Ma a caso Pi, 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 pi Pi, pi, pi La faccio io la musica Ma dai è bruttissimo l'ultimo fai di schiena del paese c'è un doppio no e per te e se io vado un faccio un doppio di qua vado fuori ma non so cosa cazzo di succedere non l'audio leggi i sottotitoli sì ok ma certo che poteva mettere un po' più in alto sti sottotitoli in mezzo allo schermo carbonero ok è partito dove cazzo stiamo andando? non lo so però ci sono mettendo una vita eterna mi sento sparare ci fanno scendere oh no lui non lo so ... 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 E' un problema se salvo e rientro nel gioco No Sì Scusa un secondo ma se io faccio così Vabbè finiamo sta missione poi esco rientro dal gioco Perché sinceramente si salga è una merda Ma noi cosa dobbiamo fare? Ah a radunarsi la Guarda che ti sta... dove cazzo stai andando? Qua devi andare Madonna mia ma continua a spostarsi No è sempre stato qua Che che sta sparando? Io E' sei con me e non so da dove Non sento l'aglio smettila Ti sparo con le mp5 Guarda cosa ho in mano Guarda vedi Guarda vedi no Ho ordinato la tua squadra di seguire Segui Perché devo passare all'arcia granate smettila Non salire sul convoglio Madonna mia Ah Guardate l'm4 Ehi sei di fianco a me Ehi Ehi Roger all over In the Humvee Now bravo Ok bravo Ma quello con la faccia rosa Chi? Quello di fronte a te sono io eh No Quello a nato va azzis Stratto Aha Ti hanno sparato sul naso Eh no non lo vedo Per me è normale il sonato Spera che mi sporco un po' avanti Quanto mi ricorda ho un buco nel naso No Non mi fai ma tutto sto gioco è tutto Avanti dietro No è solo l'inizio così poi più avanti le missioni diventano Più per questo squadra è tipo è una prima missione tutorial quindi ti porta da un punto all'altro E pian piano spiega al capogruppo che sarei io come dare gli ordini Ti stai perdendo a musica Eh va fa culo Aspetta No Aspetta forse La senti? Sento un elicottero No era la canzone un bel elicottero Sento tutto Era la canzone No Ok Da la canzone di merda Ok ora la sento meglio Ahahah C 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 Sì, è morto! Io ho sparato mentre correva! Ahia! Stanno sparando? Non posso ricaricare mentre l'autizio ha 20 metri che mi spara? E' stato fatto fuori da uno dei nostri Un nemico davanti a me! Mi sto curando! Oh, ma non una mina! Cazzo! Ma c'è gente anche dietro! Che lo so! Ma che ci sta pensando per un'altra squadra dietro? Ahia! 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 Non potremmo spararmi! Oh, forse stanno sparando a te e... Ficcate che mi cura! Capire, ciao! Sì, ma la mia visuale che si fa! Ti alza da sola! Ti copro da cosa che non c'è niente! Dietro di noi è pieno di amici! Allora, ci sta pensando l'altra squadra! Allora!